Non so se erano le stesse opinioni della Procura, comunque io ho motivato con la mia testa, come faccio sempre. Se poi erano uguali a quelle della Procura, non so cosa farci, insomma, non è che è scritto che devo scrivere parole diverse di quelle della Procura. Commenta così il giudice Angelo Mascolo la bocciatura del Tribunale del Riesame della sua ordinanza di custodia cautelare per Luca Furlan, accusato dell'omicidio preterintenzionale dell'ex compagna Elda Tandura, ora si attendono le motivazioni ma all'indomani della scarcerazione del presunto assassino a causa di quello che sarebbe un suo errore, il giudice soprannominato Pistolero ribadisce le sue ragioni. La questione per Mascolo era così chiara e così ben motivata da non richiedere ulteriori argomentazioni oltre a quelle esposte dal pubblico ministero. Io credo di aver fatto bene, l'ho anche guardato, l'ho anche riguardato, mi sembra che ci sia tutto quello che serviva, poi per carità rispetto al giudizio del Tribunale della Libertà.